Un saluto a tutti i docenti di lingua inglese. Vediamo insieme la pubblicazione delle varie risorse diattiche previste per questo mese. Iniziamo questo mese in modo spettrale, ma non troppo spaventoso, con lo storytelling The Canterville Ghost. Scopriremo la storia di un fantasma fuori dall'ordinario e condivideremo idee su come coinvolgere gli studenti in questa intrigante narrazione. Nell'Esson Plan esploreremo una festività inglese tradizionale, la Guy Fawkes Night. Approfondiremo le origini e la cultura di questa notte di fuoco e vedremo quali modalità utilizzare per condividere questa affascinante tradizione con i nostri studenti. Preparatevi a un'avventura misteriosa con Valentina & Friends. Seguiremo Valentina e Blu mentre si avventurano in una casa stregata, un mondo dinamico per stimolare l'immaginazione dei bambini. Il calore dell'autunno sarà il tema dell'Esson Plan di questo mese. Apprenderemo nuove parole legate a questa stagione, scoprendo il vocabulario e le esperienze tipiche dell'autunno attraverso tante divertenti attività. Le nostre risorse didattiche saranno pronte all'uso. Dalle schede ai giochi interattivi avrete tutto il necessario per creare lezioni dinamiche e stimolanti. Il webinar di questo mese sarà completamente dedicato ad Halloween. Scopriremo insieme come inserire materiali e idee a tema Halloween nelle nostre lezioni, rendendo l'apprendimento un'esperienza magica e straordinariamente divertente. Buon proseguimento di anno scolastico con le risorse didattiche London Teach. Ci vediamo al prossimo mese!